Signor procuratore Giovanni Di Leo, adesso parliamo in questo video del primo sequestro importante che la sua procura dovrà operare, con molto ritardo, non debitabile alla signoria vostra ovviamente, ma ai nulla e male facenti che hanno gestito l'ufficio negli ultimi anni, cioè a patronaggio e a vella. La vicenda di cui ci occupiamo è interessantissima sia perché riguarda un affare losco di mafia con lucro per milioni di euro nel solito settore dell'edilizia, sia perché vi è una lettera anonima, nota da alcuni anni, a me inviata, depositata da me anche in procura, che dipinge l'opinione che i cittadini di Agrigento hanno maturato in merito alla procura che adesso la signoria vostra dirige. Mi dicono che le urla dal quinto piano si odono persino in Viale Sicilia a Fondanelle perché lei sta scoprendo che non è a capo di un ufficio ma di un'autentica porcilaia e di questa porcilaia ne avevano pieno sentore i cittadini. Leggiamo la lettera anonima. Questa lettera anonima è stata a me inviata alcuni anni fa, almeno quattro. Adesso la mostrerò pure a colori perché è una lettera anonima a colori e io farò avere alla sua attenzione la foto a colori, oltre che quella bianco e nero. La lettera anonima mi è stata mandata quando il palazzo in questione era ancora in questo stato. Lì lo vediamo bianco e nero, qui lo vediamo a colori. Prego il mio collaboratore di inquadrarlo. Ecco il palazzo a colori. La lettera anonima mi è stata mandata quando il palazzo era ancora in questa situazione. Il palazzo adesso è questo. Guardi, grazie a Vella e a Patronaggio che bel lavoro illegale hanno potuto fare Vincenzo Costanza, oggi deceduto, con la concessione edilizia che gli è stata data illecitamente nel 2010 al comune di Agrigento, quando era vivo e pieno di vita, e il genero Attilio Sandini, suo strettissimo collaboratore. Vediamo la foto adesso a colori, e la confrontiamo. Il palazzo era così. Adesso è divenuto in quel modo. La foto ovviamente non rende giustizia pienamente, perché abbiamo una quinta elevazione che non si vede, perché è parziale ed è l'altro lato. Si vede un'ombra qua dietro. Eccola qua. E poi si è ingigantito, diciamo, in quello che è il lato nord, che noi non vediamo. Ma già confrontando questi balconcini e questa altezza con quello che vediamo qui, l'idea viene fuori sufficientemente chiara. L'ingegner Sandini ha moltiplicato per due o per tre i volumi preesistenti. Pretende 3.500 euro al metro quadrato. Quindi chi vuole acquistare un appartamento di 100 metri quadrati deve mettersi in mano 350 mila euro. L'intero palazzo ritengo che abbia tre appartamenti per piano. I piani al momento sono quattro, ma facilmente si chiuderà il sotto. È già predisposto per l'abuso e di conseguenza credo che siamo in presenza di 800 metri quadrati, ho sbagliato, di 3-400 metri quadrati a piano per, se fossero mille metri quadri, potremmo parlare mille metri quadri per 3.500 euro al metro quadrato e siamo già a 3 milioni e mezzo ed è ancora di più, 3 milioni e mezzo di euro il guadagno dell'ingegner Sandini che ha investito i capitali di mafia del suocero. Anzi, i capitali di mafia li ha investiti inizialmente direttamente il suocero. Ma vediamo cosa scrivevano i cittadini agrigendini nell'anonimo che abbiamo a colori, glielo faverò avere a colori. All'avvocato Arnone, oggetto cosciendo fabbricato in via Francesco e Crispi, sospetta irregolarità. L'egregio avvocato Arnone, sono libero cittadino di agrigendo e perché ho moltissima stima nella sua persona volevo porgere la sua attenzione nell'ennesimo abuso edilizio su cui questa città è stata coscietta a subire ad opera dei soliti personaggi indocchabili. L'ingegnere Attilio Santini è noto professionista che ha ricoperto in passato incarichi istituzionali per favorire la mafia al comune, aggiungo io, all'interno del comune di agrigendo, nonché genero del costruttore Costanza Vincenzo Dioppolo Giangascio, noto per avere rapporti con personaggi mafiosi della provincia. Potremmo dire di più. È colluso e aggregato alla cosca mafiosa di Dioppolo Giangascio e, come ha detto il pendito Angelo Sino, Vincenzo Costanza veniva definito a stessa cosa dal capo mafia di Dioppolo, un capo mafia importante malgrado il piccolo paese, Don Luigino Cacciatore. Poi Costanza era presto a nome di capi mafia, oggi è il gastolani come Fragapane Salvatore e Fanara Antoni, un personaggio importante Costanza. Ha ottenuto Costanza mafioso dall'ufficio tecnico al comune di agrigendo una licenza di inizia ai sensi di questa legge Piano Casa che prevede l'ampliamento dei volumi rispetto al vecchio fabbricato. L'ampliamento poteva essere di un quarto. Loro hanno fatto per tre volte, ma quello che è bello, loro hanno fatto per tre volte in modo del tutto abusivo, ma non potevano avere neanche la concessione edilizia sulla legge del Piano Casa, lo scrive l'amico nostro. Detta legge sul Piano Casa, però all'articolo 11,2, lettera C pone un limite ben preciso, ovvero che gli interventi non possono riguardare le facce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste, dei parchi archeologici. E allora questo signore spiega tutto, tutti gli imbrogli che sono stati fatti e apro un inciso. Questi imbrogli e altri ancora sono stati, si prepari a urlare procuratore Di Leo, si prepari a urlare moltissimo, metta in gola delle belle pastiglie valda e poi si chiami davanti a Salvatore Vella e lo faccia nero, nero come il carbone, deve essere fatto Salvatore Vella. La sovrintendenza di Agrigendo ha mandato una relazione dove la sovrintendenza di Agrigendo, non l'anonimista, sostiene esattamente quello che qui stiamo leggendo e molto peggio in ordine alla illegalità di un affare da milioni di euro. Salvatore Vella evidentemente queste carte se le è portate al cesso, come se è portato al cesso le mie denunzie. Anzi, procuratore Di Leo, oggi è martedì 19 settembre, dopo domani ritorna dalle ferie l'ispettore della squadra mobile con cui io mi sono rapportato nel fare le denunzie sul malaffare al comune, dove indicavo, tra le altre tante cose che meritano le manette, anche la vicenda di questo palazzo, che beneficia anche la vicenda di questo palazzo dei buoni uffici, cioè degli illeciti dell'attuale sindaco Franco Miccichè. E allora, Salvatore Vella, che senti pure tu certamente questo video, ma come andiamo? Dove hai messo la relazione della sovrintendenza? Procuratore Di Leo, gliela mostro la relazione della sovrintendenza e chiede a Salvatore Vella dove l'ha messa. La relazione della sovrintendenza era anche mandata alla procura della Repubblica di Agrigento, alla procura della Repubblica di Agrigento. Qui è segnalata aliquota G, Polizia Municipale, PEC, Comune Agrigento, eccetera, eccetera. E guardi che c'è scritto qui, dovendo dare risconto alla nota numero 16.399 del 27.12.21 della procura, cioè la sua procura, ovvero quel bordello che lei deve risanare e trasformare in un ufficio giudiziario, perché oggi è un indegno bordello la procura della Repubblica di Agrigento, ha ricevuto una molteplicità di dettagliate e specifiche denunzie da parte mia e le denunzie hanno dato pure luogo a iniziative e le denunzie. E' un organo dello Stato preposto alla tutela del territorio e a denunziarvi i reati, vi ha relazionato che il palazzo è abusivo e che Arnone aveva ragione. Tutto questo, procuratore, è stato portato dai suoi predecessori al cesso. Viene attestato che non è stata rispettata la distanza dai convini dei parchi archeologici. Guardi, signor procuratore, poi guardi come si fanno gli imbrogli, in una terra dove la procura dorme sonni di gloria. Le denunzie vengono insabbiate, procuratore, insabbiate. Poiché le denunzie vengono insabbiate, giustamente l'ufficio urbanistica del comune di Agrigento, in mano ai delinquenti, autorizza il mafioso Costanza, il genero Santini, lo scrive la sovrintendenza, a demolire e ricostruire senza che agli atti risulta alcuna documentazione atta a dimostrare l'esatta consistenza plano-volumetrica della costruzione, oggetto di richiesta. Cioè, Santini è talmente delinquente e al comune sono suoi complici, che richiede di demolire e ricostruire il palazzo senza indicare qual è il volume del palazzo, in modo che si demolisce e si ricostruisce il suo piacimento. Che bravo quel Santini, che uomo, che tecnico! E al comune i delinquenti che si sono succeduti, ovviamente, come scrive la sovrintendenza, senza andare a verificare quali sono i volumi, danno l'autorizzazione. Così funziona il favoritismo a Cosa Nostra nella terra di mafia, procuratore capo. E, come dice giustamente il cittadino, Costanza è un mafioso. Ma ritorniamo alla lettera anonima del cittadino. Il cittadino evidenzia tutto, indica anche le difformità urbanistiche. Mi ha mandato pure le tavole del piano regolatore. Qua gliele mostro a colori, procuratore. Sempre mandato dal solerte cittadino qualche anno addietro e da me, dato alla sua procura, che si è portato tutto nel cesso. Guardi, procuratore. Evidenziazione del fabbricato, ricadente in piena zona di rispetto dei boschi. E allora, andiamo adesso alla parte finale. La parte finale io la mostro a colori, procuratore, e leggo quello che c'è scritto in modo che il mio collaboratore mostra soprattutto quello che io sto leggendo. Ebbene, avvocato Annone, purtroppo interpretando alcuni agrigentini della zona, questi sono rassegnati perché il sentimento comune è quello che l'ingegnere Santini, avendo molte amicizie, il palazzo lo farà lo stesso perché nessuno gli fermerà i lavori, come è avvenuto fino ad ora. Un profeta era l'anonimista che mi ha mandato tutte queste belle carte. Nessun cittadino ha avuto finora il coraggio di intraprendere un'azione legale, né di esporsi in prima persona per paura di ritorsioni. Certo, tutti sapivano che il vero titolare del palazzo, cioè il suocero, oggi defunto, ma fino a poco tempo fa vivissimo, era un noto mafioso che disponeva della mafia. Desidero segnalare infine l'assoluta mancanza di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in cui lavorano gli operai, cioè gli operai all'interno del candiere non utilizzano caschi protettivi, cintura di sicurezza e altri dispositivi. Candiere di mafia è, come direbbe Picone a Ficarra, se è candiere di mafia non c'è bisogno di norma di sicurezza, è tanto semplice. Eppure il fabbricato si trova in una zona centrale della città dove passano tutti, ma nessuno vede niente. E se è un palazzo di mafia, certo, sicuro di un suo immediato intervento, anche mediatico, al fine di stabilire la legalità e dare una risposta esemplare alle migliaia di concittadini rassegnati. Guardiamola pure a colori questa pagina, procuratore, un attimo che la prendiamo. Ecco la procuratore, la pagina che mostra, guardi che bella visuale che ha sulla Valle dei Tempi il palazzo, per questo Santini chiede 3.500 euro a metro quadrato e quindi 350.000 euro per appartamento di 100 metri quadri. Guardi che visuale, guardi che bello, guardi che grande affare di mafia. E qui abbiamo i lavoratori senza cintura di sicurezza, messi lì, non in regola, tanto qui le cose non funzionano secondo le leggi, ma a cazzo di cane. Certo, ma vogliamo ridere di questa procura assieme, procuratore di Leo. Se non si fanno le indagini e non si sequestrano gli abusi denunziati dalla sovrintendenza ad Arnone, una, due, tre, quattro, cinque, che coppola di minchia facevano alla procura della Repubblica prima del suo arrivo? Cosa facevano? Giocavano a rubamazzetto. Una cosa era quella che facevano nei miei confronti, sperimentare minchiate dalla mattina alla sera, farmi decine di processi e quest'anno incasserò 40.000 euro per le assoluzioni dell'anno passato, l'anno prossimo ne incasserò 50.000, già sono a cinque assoluzioni e l'anno non è finito, procuratore capo. Allora, guardi qui, guardi qui e ovviamente i cittadini, migliaia di cittadini sono rassegnati e l'unica persona di cui si fidano è l'avvocato Arnone e questa nota non è stata mandata ora, lei ce l'ha, è stata mandata quando il palazzo era in questo stato, io ce l'ho da almeno tre o quattro anni questa nota, perché poi Sandini, temendo che il palazzo venisse sequestrato, bloccato dopo il casino che io ho fatto, è andato abbastanza piano. Ora l'ha finito, guardi che bello, facciamolo rivedere, guardate, guardate che ha fatto, che cose miracolose. E adesso possiamo concludere, cosa avverrà? Procuratore De Leo, avverrà questo, all'inizio della prossima settimana io farò l'uomo sandwich, la foto che vede e quest'altra foto che nuovamente le mostro, daranno luogo a un bellissimo manifesto. Questo bellissimo manifesto avrà anche un titolo e una richiesta, io lo indosserò da uomo sandwich e mi fermerò a passeggiare per alcune ore a Palazzo di Giustizia, nel marciapiede davanti a Palazzo di Giustizia. E lei, procuratore De Leo, sarà costretto anche a vedere questo video, perché ovviamente nel manifesto ci sarà la richiesta di sequestrare il palazzo immediatamente e di vedere il video che in questo estande sto registrando e credo che questa iniziativa avrà molto ma molto clamore. E cominceremo a dare il segnale, procuratore De Leo, che ad Agrigento è ritornato lo Stato.